vai buonasera a tutti e bentornati a pianta una pianta e questa è la terza puntata del percorso che è iniziato a ottobre grazie alla collaborazione di diverse realtà della diocesi di milano che hanno deciso di intraprendere un percorso di otto incontri fino a maggio 2021 incentrato su due fonti principali che sono la laudatossia di papa francesco e la nazione delle piante delle piante il libro di stefano mancuso nelle prime due puntate abbiamo parlato di natura bibbia astrofisica di biodiversità dello scarto alimentare questa sera invece abbiamo deciso di incentrarci su un altro tema che può aiutarci a leggere meglio quelli che sono i problemi ambientali e sociali che ormai stanno chiaramente affliggendo questo momento storico infatti questa sera parleremo insieme a diversi ospiti di natura e finanza in particolare ci tengo a ricordare che è passato quasi un mese da the economy of francesco l'evento voluto tanto voluto dal papa che ha raccolto migliaia di economisti e imprenditori imprenditrici da tutta da tutto il mondo e meno di un mese fa il papa francesco ci ha proprio invitato a ad avviare dei processi e dei processi che riescano a trasformare in qualche modo anche tutta la cultura economica e finanziaria che stiamo portando avanti che sta creando dei danni non indifferenti quindi adesso io lascio la parola a michelle che ci dirà come iniziamo questa sera ciao a tutti benvenuti alla terza puntata e come abbiamo fatto nelle puntate scorse pianta una pianta si basa su la nazione delle piante infatti adesso tratteremo dell'articolo 3 della leggo la nazione delle piante non riconosce le gerarchie animali fondate su centri di comando e funzioni concentrate e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate e proprio stasera avremo con noi l'autore della nazione delle piante stefano mancuso che è uno scienziato di fama mondiale è un botanico è un saggista insegnante all'università di firenze dirige il laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale e autore appunto di diversi libri tra cui la nazione delle piante che mi ha ispirato a prendermi cura di queste piante qui e prima di stefano mancuso vi presento il giovane che condividerà la sua riflessione e farà la domanda stefano massimiliano ha 23 anni è il secondo anno magistrale di economia alla bocconi fa parte di economia francesco nel villaggio life and lifestyle è responsabile diocesano dell'azione cattolica studenti prego massimiliano a te la parola grazie grazie michelle e buonasera a tutti e appunto io parlerò qualche minuto e in realtà il centro diciamo del di quello appunto di cui parlerò sono due domande che pongo al professor mancuso e per iniziare visto che appunto oggi anche il suo compleanno comincerei citando un estratto dalla laudato sì di papa francesco che al numero 116 dice molte volte è stato trasmesso un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l'impressione che la cura della natura sia una cosa da deboli invece l'interpretazione corretta del concetto dell'essere umano come signore dell'universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile e mi colpito in particolare queste ultime due parole e vorrei soffermarmi un pochettino su su queste in particolare sulla parola amministratore perché pensandoci un pochino su mi veniva come definizione in un certo senso di amministratore colui che ha il compito di organizzare colui che deve mettere e dove organizzare significa mettere a sistema un insieme di risorse per ottenere dei risultati efficienti per fare un esempio mi veniva in mente la gestione dell'acqua per una città come quelle in cui viviamo viviamo noi gestione dell'acqua che non significa solo una rete idrica e quindi una rete di tubi che permette all'acqua di raggiungere ogni abitazione ma anche degli studi e delle valutazioni per investigare le risorse idriche e valutare se sono sufficienti se sono a rischio inquinamento oppure anche la costituzione di società pubbliche o private per la gestione di questo sistema l'assunzione l'impiego di personale per la manutenzione del sistema e della rete idrica e anche delle regole di utilizzo a livello della società e che quindi richiedono anche in un certo senso un'autorità pubblica per appunto per utilizzare in modo proficuo l'acqua mi veniva in mente ad esempio in estate quando si chiede di contingentarne l'uso in particolare durante la giornata diciamo quindi amministrare in un certo senso è un po' sinonimo di organizzare e ripercorrendo un pochino gli studi di economia in questo senso quando diciamo in economia aziendale si parla un po' di organizzazioni tradizionalmente si analizzano due direzioni quella verticale quindi organizzazioni verticale di tipo gerarchico oppure un'organizzazione più orizzontale a rete e qui diciamo entriamo nel tema vero della prima domanda che fa riferimento in particolare alla nazione delle piante del professor mancuso appunto in questi cioè nei miei studi ma comunque nella letteratura si fa sempre notare che l'organizzazione verticale orizzontale porta con sé dei vantaggi e degli svantaggi ad esempio un'organizzazione gerarchica può essere più lenta e più difficile ad adattarsi ai cambiamenti soprattutto ai pentini però permette di definire chiaramente le responsabilità torna la parola della laudato si e anche permette una maggiore efficienza in alcuni tipi di processi produttivi soprattutto quelli più ripetitivi per cui arrivo alla prima domanda che è la seguente è possibile unire i vantaggi delle strutture verticistiche e delle reti orizzontali per creare dei nuovi modelli organizzativi e di sviluppo e per cui questa è la prima domanda la teniamo un momento lì la seconda invece parte da diciamo sempre una riflessione sull'organizzazione perché questo un po il tema centrale del capitolo 3 in realtà e del libro e per cui partirei in questo caso dalla cellula per il semplice motivo che recentemente ho aiutato mia sorella a ripassare queste cose per l'interrogazione di scienze e si dice sempre che la cellula è l'unità base della vita la più piccola struttura che può essere definita vivente e la cellula appunto però è organizzata al suo interno o perlomeno la cellula alle cellule animali e vegetali sono organizzate al suo interno hanno delle singole parti che sono specializzate in alcune funzioni il nucleo il mitocondrio e via dicendo e appunto specializzazione è la parola cardine della mia seconda domanda perché appunto specializzazione secondo me non significa solo avere un singolo compito una singola diciamo missione ma significa anche saper far bene quella mansione e saperla fare bene perché c'è stata una formazione e ci sono delle caratteristiche del diciamo in questo caso per esempio della cellula dell'organulo che permettono alla stessa di funzionare bene in quanto il mitocondrio diverso dal nucleo svolge funzioni diverse e diciamo allargando un po lo sguardo alla società mi veniva in mente che si può definire come unità base della società l'uomo l'essere umano e per l'uomo valgono due concetti secondo me importanti uno è quello di una specializzazione anche delle persone che da secoli si specializzano in una particolare professione per esempio ma dall'altro anche e questo è un concetto che si trova spesso anche nella laudato sì ma in generale nella dottrina cristiana l'idea del fatto che è l'importanza dell'esistenza di ogni singolo uomo per cui è l'unità base si specializza ma ha una sua ha una dignità in quanto singolo essere umano in questo senso e per cui arrivo quindi alla domanda e poi passo la parola al professor mancuso per cui la seconda domanda è questa come si può garantire la specializzazione in una struttura rete come quella presentata nella nazione delle piante e poi è importante che questa specializzazione ci sia nella società umana oppure avere un sistema più come dire appunto a rete è quello a cui dobbiamo aspirare in un certo senso dunque grazie massimiliano sono domande molto complesse molto molto belle molto articolate ma complesse che probabilmente richiedono un pochettino di più dei del tempo che che mi è stato concesso quindi cercherò di essere molto sintetico e poi diciamo non non entrerò molto nel merito delle delle questioni economiche anche perché davanti a sora alessandra io mi mi guardo bene dal dire una singola parola che riguarda che che ha qualche connessione con le economie e quindi mi ma mi manterrò esclusivamente sul livello biologico allora però partirei proprio da una dalla 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 frase che hai citato della laudato si in cui ci ricorda il papa ci ricorda che noi non siamo i dominatori i signori dell'universo ma siamo i custodi del pianeta perché penso che questo sia un ribaltamento di divisione di ruoli fondamentale che ancora che purtroppo diciamo ancora non tarda ad essere ad entrare davvero nella 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 concesse nella nella concezione interna del di come si come si guarda alla vita da parte delle persone e che anzi e ti dico la verità tende ad avere anche fra i credenti una resistenza molto forte ti faccio un esempio un esempio veramente molto recente due giorni fa un professore di filosofia che si un professore di filosofia ha scritto un articolo sul su un giornale su domani in cui criticava le mie posizioni riguardo al fatto che io ritenevo le piante di pari dignità diciamo dei degli esseri umani io ora ti spiegherò anche che cosa intendo dire con questo e il giorno dopo l'avvenire è intervenuto su questa cosa dicendo che ovviamente la cosa che che io che io che io intendessi dire che le piante erano avevano pari dignità era una cosa diciamo talmente ridicola da non meritare neanche di parlarne ora la cosa mi ha molto colpito perché mi ha colpito perché appunto questa critica veniva dall'avvenire il ora se noi continuiamo a guardare davvero al al creato e a tutti gli esseri viventi da un piano di superiorità allora l'intero l'intera rete della vita è a rischio cioè questo è un punto fondamentale che va compreso da un da un da un punto di vista biologico c'è la nostra vita la vita di ogni specie vivente non è una vita individuale cioè non è una vita individuale non della singola persona del singolo del singolo organismo della singola specie cioè le specie viventi che popolano questo pianeta possono esistono proprio perché c'è una rete della vita che ne permette la sopravvivenza ti faccio un esempio banalissimo in modo da rendere evidente chiara questa cosa se le piante scomparissero domani noi non noi uomini noi tutti animali scompariremmo il giorno dopo su questo non c'è alcun dubbio perché noi respiriamo l'aria che ci che prodotto l'ossigeno che producono le piante mangiamo l'energia chimica fissata dalle piante in qualunque forma poi arrivi a noi quindi diciamo noi siamo perfettamente direttamente dipendenti dalle 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 piante tant'è vero che una un'altra volta facendo di nuovo arrabbiare molte persone dissi che dovevamo provare che il comandamento onore il padre la madre doveva essere esteso nella mia visione alle piante perché noi siamo dipendenti dalle piante come dei bambini sono dipendenti dei genitori e quindi esattamente nella stessa maniera dovevamo portare per questi esseri viventi lo stesso rispetto che portiamo per i nostri per i nostri genitori ora perché tutto nasce da questa visione perché tutto nasce dall'idea che l'uomo ha una un è meglio è migliore rispetto agli altri alle altre agli altri esseri viventi tutto questo non ha alcuna niente a che fare con le finalità ha soltanto a che fare col funzionamento della vita quando fino a quando con cominceremo continueremo a ritenere che l'uomo è migliore cosa che io non abbiamo il tempo di addentrarci ma che io contesto proprio sulla base di fatti banali allora uno dei fatti banali è che la vita ha un la vita di ogni specie vivente ha una finalità che è la prima tutte le altre dipendono diciamo e sono dei un corollario diciamo di questa prima finalità che è quella di propagare la specie o di mantenere in vita la specie se una specie diciamo se i componenti di una specie vive di una specie vivente non hanno come prima finalità quella di mantenere in vita la propria specie è chiaro che tutte le altre finalità scompaiono perché se la specie scompare tutto il resto non ha più alcun senso ora l'uomo appello l'uomo non ha non ha un al momento sembra aver perso completamente di vista questa finalità primaria della vita l'uomo è riuscito in quali in ad ottenere dei risultati che sono addirittura incredibili pensa che in diecimila anni quindi dall'invenzione dell'agricoltura oggi l'uomo è riuscito a dimezzare il patrimonio arboreo della terra cioè in diecimila anni che in termini diciamo di vita di una specie sono un batter d'occhio un l'equivalente di un millisecondo quindi in diecimila anni l'uomo ha dimezzato il patrimonio arboreo della terra se continuerà così tra qualche altro migliaio di anni noi proprio non potremo sopravvivere perché avremo tagliato diciamo ciò da cui dipendiamo l'altro dato che è proprio di qualche di qualche settimana fa e che ugualmente mi ho trovato talmente terrorizzante che non ci volevo credere però ora ho fatto tutta una serie di di ricerche ed è ed è invece un dato reale nel 2020 l'uomo ha prodotto cioè nella il 2020 diciamo così è stato un momento di svolta un momento veramente epocale perché perché nel 2020 il peso dei materiali prodotti dall'uomo su questo pianeta ha superato il peso dell'intera vita guardate che è una è un dato che io credevo quando l'ho letto non credevo neanche fosse possibile perché il peso della vita su questo pianeta è un peso enorme allora e invece noi siamo riusciti nella 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 straordinaria impresa ovviamente questo è sarcastico di superare con i materiali sintetici il peso della vita pensate che soltanto soltanto in cemento produciamo l'equivalente di cinque miliardi cinque non me lo ricordo più quant'è cinque miliardi di tonnellate di cemento all'anno sono sono delle non ricordo neanche sei cinque miliardi e cinque mila miliardi cioè sono dati talmente astronomici da da essere di fatti difficilmente calcolabili difficilmente memorizzabili allora se noi in un tempo così breve se in un tempo così breve siamo riusciti a fare questo al pianeta e alle altre specie dalle quali dipendiamo questo nasce da un'idea di gerarchia fra le specie cioè noi abbiamo un'idea l'idea che noi siamo meglio delle altre specie e nel momento in cui qualcuno si sente meglio di qualcun altro che sia un uomo o che sia un'altra specie vivente quest'altra quest'altro organismo diventa per forza di cose al entra ad essere al tuo servizio tu sai quello che serve a lui e se questa è la sua vita diciamo è necessaria per la tua sopravvivenza la prendi senza assolutamente alcun problema io penso che questo sia una delle delle principali delle principali cause per cui noi ci troviamo nello stato in cui ci troviamo che è uno stato che al momento di allo stato dei fatti non garantisce assolutamente la propagazione della nostra specie per un tempo ancora minimo quando ci toccherebbero invece se noi fossimo una specie come tutte le altre ecco pensate soltanto a questo dato non dico se ve l'avevo l'avevo già detto l'altra volta però se noi fossimo una specie come tutte le altre siccome abbiamo soltanto 300 mila anni e questa l'età dell'homo sapiens ci toccherebbero altri 4 milioni e 700 mila anni di vita media e come mai invece ci siamo andati a infilare in un in un problema tale per cui pensare a un a un a un orizzonte di questo tipo è per noi quasi impossibile ma non 4 milioni ancora 4 milioni e 700 mila anni mille diecimila anni se voi pensate a quello che abbiamo fatto in diecimila anni pensare che potremmo continuare per altri diecimila è assolutamente irragionevole allora per quale motivo noi che ci riteniamo la specie migliore di questo pianeta ci siamo ridotti nella situazione di essere la specie che rischia di estinguersi in un tempo così breve rispetto a tutte le altre però forse tu non non mi sono mi rendo conto massimiano che non ho risposto assolutamente a niente di quello che mi avevi detto di perché dunque c'era che mi avevi chiesto perché c'era la questione delle 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 organizzazioni delle organizzazioni gerarchiche e delle organizzazioni diffuse le organizzazioni gerarchiche e di fatto sono sono costruite su di noi su come noi siamo costruiti su noi animali abbiamo un cervello che governa degli organi singoli o doppi che sono specializzati in particolari funzioni ha dei vantaggi che normalmente diamo il vantaggio di un'organizzazione gerarchica biologica attenzione è proprio il contrario di quello che hai citato tu è la velocità cioè i nostri corpi i corpi animali sono costruiti in questa maniera proprio perché soltanto il cervello a prendere la decisione quindi il corpo si muove velocemente per noi animali il movimento e quindi la velocità è fondamentale poi quando noi uomini invece imitiamo queste strutture e le replichiamo e diventano immediatamente diciamo perdiamo anche quest'unico vantaggio perché inevitabilmente i livelli di trasmissione delle delle del comando diciamo dal capo agli organi dipendenti crea quella che poi diventa la burocrazia che è inevitabile in qualunque organizzazione gerarchica ma non è tanto questo il problema vero delle organizzazioni gerarchiche è la fragilità un'organizzazione gerarchica in cui ci sono degli organi singoli o doppi specializzati come anche nelle organizzazioni umane è fragile inerentemente fragile perché può crollare non soltanto perché si rimuove il capo ma anche se si rimuove uno qualunque degli organi da cui l'organizzazione dipende è il caso del nostro corpo in cui se un organo fondamentale si rompe non è importante che sia il cervello l'intera organizzazione collassa ora questo è il primo problema ed è un problema che rende le specie animali poco resistenti a confronto con tutte le altre specie viventi non è un caso che appunto la quantità di animali sia così bassa lo 0,3 per cento della vita rispetto alle altre specie che hanno una resistenza incredibilmente incredibilmente più alta il secondo punto che è per me ancora più importante è il fatto che nelle organizzazioni gerarchiche chi prende le decisioni è lontano dal punto dove questa decisione poi ha il suo effetto questo è un altro problema enorme delle organizzazioni gerarchiche che ha che ha avuto nella storia anche delle delle ripercussioni drammatiche ora non abbiamo tempo purtroppo ma magari faremo un altro incontro nelle prossime settimane ma il il uno dei problemi proprio delle dell'ascio a quella diciamo il il male a il male assoluto del secolo scorso e chi se voi leggete la banalità del male di anna rente cosa che se non avete letto dovete fare perché è uno dei libri fondamentali del secolo scorso cioè vi accorgerete vi accorgerete che è anna rente dice guarda anna rente la banalità del male si si svolge tutto intorno al processo ad eichmann eichmann era il colui al quale hitler aveva affidato la soluzione finale cioè colui al quale hitler aveva detto guarda ci sono cinque milioni di ebrei in 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 europa non ne deve rimanere uno questo era eichmann allora e nella banalità del male anna arendt alla fine dice guardate che facendosi nemica anche tutta la comunità ebraica guardate che eichmann non è l'incarnazione del male come ce lo immaginiamo noi è un burocrate è un burocrate però secondo me è esagerato perché anche nei burocrati c'è c'è una limitazione diciamo a quello che gli si può chiedere ma lui dice ma anna arendt dice è inerente al sistema gerarchico e in effetti eichmann si difende per tutto il processo dicendo io ho svolto gli org gli ordini che mi arrivavano dall'alto e quello che può fare un uomo in un'organizzazione gerarchica e fare e svolgere questi organi questi ordini nella maniera migliore possibile allora accanto a questo libro quindi ora io non abbiamo tempo però come dire vi do i compiti leggete via anna arendt la banalità del male e poi leggetevi un altro libro che si che è un libro scritto da stalle milgram stalle milgram era un altro è uno psicologo sperimentale del che contemporaneamente praticamente alla scritta nel 63 64 mentre anna arendt scriveva la banalità del male scriveva un libro che si chiama obbedienza all'autorità e in questo libro obbedienza all'autorità lui racconta di degli esperimenti che lui ha fatto cioè esperimenti che dimostravano non vi voglio davvero non voglio rubare tempo agli altri relatori per cui ne parleremo un'altra volta ma in questi in questi esperimenti si dimostra in maniera lampante lampante al di là di ogni dubbio che nell'organizzazione che anche in un'organizzazione gerarchica il 70 per cento pensate il 70 per cento delle persone che avevano che su cui milgram aveva svolto i suoi esperimenti diciamo sì di psicologia sperimentale si erano dimostrati capaci di premere dei bottoni che avrebbero portato secondo loro alla eliminazione di persone persone normalissime cioè il 70 per cento della popolazione americana per questo vi dico è un problema incredibilmente serio quello delle quello delle gerarchie non è che io sappia non credo che sia possibile e proba probabilmente potrebbe essere una strada quella di cercare dei dei modelli di organizzazione ibridi in cui diciamo il il meglio dei delle due dei due tipi di organizzazione eh riescono a convivere ma non io non sono un esperto e non ti saprei dire come questo possa succedere l'ultima cosa che ti voglio dire riguarda le cellule è vero che le cellule sono specializzate ed è vero che gli uomini sono specializzati ma guarda la specializzazione avviene sempre quando c'è una grande ridondanza cioè ora cerco di essere più chiaro in un corpo ci sono miliardi di cellule e allora ogni cellula può permettersi di essere specializzata perché anche se come dire è fragile ce ne sono tante altre che possono prendere il suo posto e in un certo senso la tua similitudine con la società umana regge perché anche una società si può permettere di essere specializzata perché se noi prendiamo gli uomini come cellule beh ce ne sono tanti dove una dove un'organizzazione gerarchica non può permettersi di esistere quindi dove la specializzazione non può esistere e dove coloro che formano quei nodi diciamo di questa organizzazione sono insostituibili e sono fondamentali per l'organizzazione stessa allora è assolutamente impossibile a mio modo di vedere pensare di sviluppare un'organizzazione specializzata. Mi spiace Massimiliano che io penso di aver risposto a molto poco di quello che mi avevi chiesto però erano talmente tante le suggestioni che mi hai dato che ho cercato di condensare in questi 20 minuti un po' di tutto e magari ho fatto una gran confusione. No grazie professore in realtà è stato tutto molto chiaro e ho visto anche Massimiliano soddisfatto delle sue risposte quindi grazie mille per l'intervento e grazie Massimiliano per gli spunti e ora invece passerei il microfono virtuale ad Andrea e Sor Alessandra Smerilli in particolare Sor Alessandra Smerilli è la socia fondatrice ed è anche docente della scuola di economia civile e attualmente insegna economia politica alla pontificia facoltà di scienze dell'educazione auxilium a Roma. È membro del consiglio nazionale del terzo settore del comitato etico di etica SGR oltre che del comitato scientifico e organizzatore delle settimane sociali dei cattolici. Inoltre forse alcuni di voi che ci state seguendo ma anche alcuni di noi che abbiamo seguito d'economia Francesco, Sor Alessandra è anche membro del comitato scientifico dell'evento che ormai è diventato un vero e proprio processo e ora introduco anche Andrea che è il ragazzo che questa sera porrà la domanda a Sor Alessandra. Andrea ha 23 anni e al secondo anno di magistrale in ingegneria dei materiali e nanotecnologia al Politecnico di Milano, è membro del gruppo FUCI di Milano Città Studi che salutiamo, che ci stanno seguendo da casa sicuramente e nell'ultimo anno in particolare negli ultimi mesi sta maturando un particolare interesse per l'economia civile quindi direi che rivolge la domanda alla persona giusta. Prego Andrea. Grazie Marta e buonasera a tutti. Sì allora anche io avrei un paio di domande da da porre a Sor Alessandra. Allora la prima parte dalla constatazione che la lettura dell'encifica alla dotosi di Papa Francesco permette di capire l'importanza del vivere responsabilmente e attentamente il nostro rapporto con il mondo e con gli altri. Questo permette di esserne rispettosi e credo anche renda possibile l'organizzazione di quelle relazioni umane e l'instaurazione di un clima di fiducia tra le persone che sono la base penso anche dello sviluppo di un'economia civile. Considerando che quando si parla di economia e di finanza sia anche l'ulteriore come dire problema del dover essere in grado di relazionarsi con la realtà perché sicuramente appunto hanno un effetto sulla realtà sulla socialità attraverso però spesso l'astrazione dei numeri e che questi non sono sempre in grado di permettere a chi li utilizza di empatizzare con le persone che che rappresentano. Le chiederei come prima domanda se può condividere uno più parole a cui si sente legata o che ritiene importanti proprio di un'economia appunto vissuta in maniera civile ed etica perché credo che con le giuste definizioni sarebbe più facile poter pensare anche sentire più nostri alcuni ragionamenti tesi alla cura degli altri e del mondo. Come seconda domanda, come secondo spunto che le propongo una piccola riflessione sul fatto che la finanza e l'economia eh si sono dimostrate sicuramente sono capaci di sostenere lo sviluppo della società e della realtà eh investire in quelle che sono le realtà capaci poi di evolvere e anche giustamente di generare guadagno eh permette di avere impatto eh positivo anche per tutte quelle realtà eh che sono a loro afferenti e le persone che sono eh vicine a queste eh a queste realtà eh e di conseguenza un impatto positivo sulla società eh si conoscono però anche come dire episodi eh in cui la finanza e l'economia hanno sostanzialmente invece soffocato eh lo sviluppo di di alcune realtà e qui penso ad esempio anche alla delocalizzazione dell'attività manufatturiere eh che in questi ultimi anni ha affitto anche anche l'Italia eh per essere trasportate in in paesi del mondo eh giocando a ribasso sulle condizioni del lavoro di persone eh appunto che hanno meno diritti di noi oppure ancora penso alla difficoltà eh di attrarre investimenti eh in alcune in alcune realtà del mondo eh che però paradossalmente senza questi investimenti eh non saranno mai nella condizione di diventare appetibili per eh ulteriori appunto investimenti e quindi per generare valore eh e le chiederei dunque quale credo quale crede che lei sia il ruolo che eh al giorno d'oggi la finanza e l'economia eh ricoprono nella società se si limitano a sostenere lo sviluppo della società stessa o se lo stanno anche indirizzando e in questo secondo caso eh quale ruolo quale ruolo rimane alla politica? Grazie. domandine mi trovo in imbarazzo in difficoltà come Stefano che ringrazio perché è stato molto inspiring e e poi vorrei dire qualcosa anche rispetto a quello che che lui ha detto prima ma mh cerco di di rispondere in realtà da Economio Francesco abbiamo imparato che si dialoga e e non ci sono risposte ma processi che si aprono e ispirazioni che si possono avere per continuare a dialogare e pensando alle parole alle parole di un'economia civile le parole che abbiamo vissuto anche nel processo di Economio Francesco eh ce ne sono alcune che mi stanno molto a cuore la prima è biodiversità che possiamo cioè possiamo parlare di biodiversità anche nel mondo economico nell'ultima enciclica Fratelli Tutti eh Papa Francesco dedica alcuni passaggi alle biodiversità culturale ad evitare le sclerosi del dell'essere tutti uguali l'essere diversi genera tensioni che fanno sviluppare creatività eh abbiamo bisogno di diverse forme di imprese grandi e piccole abbiamo bisogno di forme di collaborazione diverse abbiamo bisogno di diversità per poter generare qualcosa di nuovo e sappiamo che oggi l'economia e la società hanno bisogno di qualcosa di nuovo quello che Papa Francesco continua a ripetere parlando della pandemia è peggio di una crisi come questa c'è solo il dramma di sprecarla cioè di ritornare a come eravamo prima io in questo momento sto lavorando con la commissione covid del Vaticano voluta da Papa Francesco e sto guidando una task force di economisti a livello internazionale e il nostro interrogativo è proprio questo come fare per non tornare al back to normal alla normalità perché quella normalità era malata eh e quindi abbiamo bisogno di fare qualcosa di diverso quindi questo è il tempo della creatività per essere creativi c'è bisogno di biodiversità c'è bisogno di organizzazioni che non siano troppo gerarchiche come eh ci dice Stefano e io lo sto vivendo in pratica questo nella commissione covid del Vaticano eh amo definirla quella che è nata una start up perché un'organizzazione completamente nuova dentro il Vaticano è una cosa che spunta lì eh è incardinata in un dicastero ma lavora con logiche diverse e e noi siamo dentro il gruppo due che è il gruppo di analisi e proposte e lavoriamo con quattro task force con ehm studiosi ricercatori ma anche eh imprenditori consulenti tutti quelli che insomma eh si stanno mettendo a servizio in quattro ambiti che sono economia ecologia sicurezza e salute e lavoriamo insieme noi ogni settimana ci incontriamo a condividere i progetti da portare avanti molti progetti li portiamo avanti insieme ehm ecco forse è quel tipo di organizzazione che riesce a mettere insieme quel minimo di gerarchia ma non gerarchia intesa come catena di comando ma come supporto dei processi cioè per ogni processo che noi attiviamo c'è un gruppo che in qualche modo spinge di più ma tutti gli altri ci lavorano e questo genera una grande ricchezza perché perché io mi sto chiedendo adesso di tutti i progetti che noi stiamo portando avanti ma che cosa posso definirlo solo economico noi parliamo di finanza d'impatto ma si può parlare di finanza senza interfacciarsi con l'ecologia con la sicurezza dove per sicurezza intendiamo tante cose anche sicurezza alimentare ehm un altro processo che portiamo avanti è sul futuro del lavoro ma si può parlare di lavoro senza interfacciarsi con la salute con la cura e con tutto il resto e quindi quale progetto è solo economia eh e questo permette di aggregare tante di quelle forze che noi stiamo seguendo una ventina di processi e di progetti eh e quando le persone vengono a vedere tutto quello che stiamo facendo ci chiedono ma quanti siete a lavorare qui? Dico per economia siamo due qui questo vuol dire che si generano di quelle energie che eh moltiplicano ehm e amplificano tutto quello che si sta facendo e quindi ma anche economio francesco è un processo di questo genere dove il minimo di struttura serve per fare in modo che le energie non si disperdano non per bloccarle ma per eh poter far andare avanti i processi quindi parola biodiversità eh adesso cerco di andare più veloce eh un'altra parola importante più che parola è come la disegniamo l'economia come ce la immaginiamo in base a questo cambia la narrazione e cambiano gli obiettivi eh Kate Raworth che ha lavorato tanto anche per economio francesco eh lei eh ci ha dato in economio francesco questa immagine siamo tutti paesi in via di sviluppo perché se misuriamo i paesi secondo il suo schema della ciambella in cui non bisogna stare né dentro cioè avere delle privazioni né consumare troppo produrre troppo perché il pianeta non ce lo consente lei dice se misuriamo i paesi in queste dimensioni vediamo che non ce n'è nessuno nell'area ottimale tutti abbiamo qualcosa da fare e questo è un modo nuovo di vedere le cose Kate Raworth dice anche noi siamo abituati a disegnare l'economia sugli assi cartesiani il che vuol dire che buono è verso l'alto buono è verso destra e invece forse dovremmo imparare che buono è in equilibrio come si concilia a tutto questo con la finanza arrivando alla seconda domanda e quindi ai grandi temi che mi sono stati posti non riuscirò a rispondere a tutto ma mi piace citare il documento un documento che di qualche anno fa ma molto interessante ehm che è stato pubblicato in Vaticano economici e pecuniarie questiones che è proprio un documento sulla finanza dove si definisce un po' che cosa è il mercato la finanza si dice il mercato può essere paragonato a un grande organismo nelle cui ve ne scorrono come linfa vitale ingenti quantità di capitali allora si può parlare di una sanità di questo organismo quando i suoi mezzi apparati realizzano una buona funzionalità del sistema in cui crescita e diffusione della ricchezza vanno di pari passo una sanità del sistema che dipende dalla sanità delle singole azioni che vi vengono attuate dire che crescita e diffusione della ricchezza vanno di pari passo e questo vuol dire avere un sistema sano vuol dire che se la crescita è disgiunta dalla diffusione della ricchezza vuol dire che il sistema degli intoppi che la linfa non scorre e non tutto questo non funziona allora quando una finanza e lo dicevamo nel nostro villaggio di finanza di economia di economia francesco è sana quando non smette di investire sulle persone e quando la finanza è fine a se stessa quando si generano soldi su per i soldi sui soldi tutto questo non funziona e come farlo voi stessi in economia francesco avete fatto delle proposte interessanti e qui c'entra anche il ruolo della politica può la politica avere un ruolo certo voi parlavate per esempio di nevo nello statement finale c'è la richiesta di abolizione dei paradisi fiscali perché fin quando esisteranno posti dove si pagano meno tasse si possono avere le sedi legali vuol dire a cosa servono le tasse se non ad essere quel meccanismo di redistribuzione della ricchezza quando questo si inceppa al pochi si arrischiscono a spalle alle spalle di altri quindi un tema è questo ma chiede coordinamento a livello internazionale voi avete anche chiesto in economia francesco che grandi imprese banche abbiano un comitato etico indipendente voi siete stati molto coraggiosi non solo indipendente ma che abbia il veto su decisioni che vanno a impattare il rispetto dell'ambiente le e le varie forme di povertà tutte queste cose sono delle scelte coraggiose profetiche che se piano piano venissero messe in atto riporterebbero la finanza ad essere quello che deve essere in origine e qui san francesco e francescanni insegnano che cos'è se non mettere insieme chi ha capitali e chi ha idee da sviluppare e quindi essere davvero quel sistema di irrigazione del mondo che può rigenerare l'economia e la società e abbiamo bisogno di chi ci creda i giovani di economia francesco hanno dimostrato non solo di volerci credere ma di volersi impegnare e per questo noi continuiamo a sostenere questo processo e mi fermo qui altrimenti parlo troppo grazie mille Sara Alessandra veramente è un onore per noi averla qui con noi sto vedendo le face dei ragazzi è un'emozione averla averla qui adesso invece passiamo alla la chiamerei la manche dei davide perché avremo con noi davide serra e davide pignata davide serra è fondatore amministratore delegato responsabile degli investimenti di algebris è considerato uno dei massimi esperti al mondo in materia di servizi finanziari e viene stato consultato da banchieri centrali e regolatori su temi politici contribuisce attivamente al dibattito sulle riforme finanziarie con il carbon off setting project di algebris mostra una grande sensibilità ambientale oltre ad essere attivo anche nel sociale con la fondazione alcuna matata che poi conosceremo più tardi a porre la domanda davide serra davide pignata che ha 23 anni laureato in filosofia e attualmente studia management for a civil and sustainable economy presso l'università sofia di l'opiano prego davide pignata grazie michelle comincio la mia riflessione proprio partendo da dai risultati che lo stesso professor mancuso citava del weissman institute of science di israele la cui ricerca appunto ha affermato che nell'arco dell'anno 2020 la la massa dei prodotti umani ha superato la massa la biomassa ovvero la massa degli esseri viventi presente sulla terra e l'impatto allora che l'essere umano ha avuto e una da avere sulla terra e di una portata veramente enorme tanto che appunto la terra è composta più da manufatti che da da esseri viventi questo è il l'indice il risultato di una forma di progresso che non tiene evidentemente conto delle conseguenze enormi che esso stesso a le cosiddette esternalità il papa francesco nella sua enciclica laudato si scrive che c'è la necessità di una ridefinizione del concetto di progresso e qui cito papa francesco scrive non basta conciliare in una via di mezzo la cura per la natura con la rendita finanziaria o la conservazione dell'ambiente con il progresso su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro semplicemente si tratta di ridefinire il progresso in questo quadro il discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe i valori del discorso ecologista all'interno della logica della finanza e della tecnocrazia e la responsabilità sociale ambientale delle imprese si riduce per lo più a una serie di azioni di marketing ed immagine vengo allora alle domande per davide serra dal vostro sito si legge che il gruppo algebris è impegnato sia dal punto di vista ambientale con l'obiettivo zero emissioni sia dal punto di vista sociale appunto con l'associazione akuna matata di cui ci verrà spiegato qualcosa in dettaglio successivamente si legge anche di una serie di limitazioni agli investimenti in particolare sul carbone sulle cosiddette armi controverse con gli altri ragazzi ci siamo confrontati su questi punti riconosciamo siano buoni segni i segni di una finanza che a cuore da una parte l'ambiente e dall'altra anche la tematica sociale ma ci chiediamo anche quali sono i prossimi passi da fare perché per esempio non vietare gli investimenti sulle armi in toto e non solo sulle cosiddette armi controverse quali sono veramente in ambito finanziario e questa è la domanda le scelte giuste da prendere per ridefinire il concetto di progresso per non rimanere in quella che papa francesco schiama chiama proprio la via di mezzo ecco ho terminato intanto ringrazio davide serra e gli passo la parola grazie grazie e ringrazio per l'opportunità dunque io farei utilizzare un po di numeri semplici in modo da capire il tema nell'anno in cui nato gesù cristo nell'anno zero sulla terra allora c'erano circa 100 milioni di persone la prima volta che il pianeta ha raggiunto un miliardo di persone è stato nel 1700 all'inizio del 1800 avevamo due miliardi oggi siamo a 7 e probabilmente 2050 arriveremo a 10 la terra nei suoi miliardi di anni aveva sul pianeta 6 trilioni di alberi ogni albero tanto per essere chiaro nel giro di vent'anni assurbe assorbe una tonnellata di co2 più o meno ora dal 1800 in poi l'uomo ha tagliato la metà degli alberi 3 trilioni quindi cosa succede da quando l'uomo nel 1900 nell'ultimo secolo abbiamo iniziato a lo sviluppo economico esplosivo ha fatto sì che abbiamo emesso sulla terra più di 500 miliardi di tan di co2 che circa mezzo trilioni di alberi avrebbero potuto assorbire su vent'anni ad oggi le emissioni sono circa di 60 miliardi annuali di metà di tan di co2 e al contempo continuiamo a tagliare foreste quindi considerando che il l'unico modo che un sistema così grande come la terra il pianeta può farcela è che noi dobbiamo assolutamente piantare un trilione di alberi che potrebbe assorbire quindi questo eccesso di co2 produzione nei prossimi 20 30 mentre cambiamo il modello sostenibile da fossil fuel quindi petrolio e gas a fonti rinnovabili come sapete il sole in un solo giorno ci dà abbastanza energia per poter gestire tutta l'attività economica di un anno quindi il tema è come catturarla ora gli alberi hanno già fatto questo nel periodo precedenti quando a un certo punto nelle varie ere la nostra atmosfera non era più respirabile motivo per cui tutte le specie sono morte sparite tra cui i vari dinosauri tutti i mammiferi e dopo che si è ricreata come dire nuova generazione chi ha tolto la nitride carbonica dall'atmosfera sono state le piante quindi penso che la prima cosa da fare sia emettere ora tanto per parlarci chiunque di noi consuma all'anno dalle tre alle cinque tonnellate di co2 quindi cosa vuol dire che dovremmo piantare per un dai tre a cinque alberi e lasciarli di per vent'anni ognuno di noi a livello individuale noi come azienda abbiamo fatto i nostri calcoli dovevamo piantare circa 12 mila alberi da quando abbiamo iniziato l'attività 15 anni fa ne abbiamo piantati circa già 50 mila quindi non solo abbiamo pulito ciò che abbiamo fatto 15 anni fa ma per i prossimi circa 60 70 anni dopodiché nel 2021 22 siamo dati l'obiettivo di arrivare a piantare un milione di alberi tanto per darvi idee al comune di milano che parla tanto di alberi ha piantato 27 mila alberi cioè un milione di abitanti abbiamo piantato 27 mila alberi noi siamo 135 ne abbiamo già piantati 52 mila e adesso ci diamo l'obiettivo di piantarne un milione quindi oggi quando qualcuno parla di alberi sbaglia sempre l'unità di misura perché comunque per piantarne un trilione vuol dire che un paese come l'italia dovrebbe piantare più o meno 2 per cento di quel numero dovrebbe piantare più di 120 miliardi di alberi scusate un trilione sono mila miliardi 2 per cento no sono due miliardi di alberi ora questo è per creare quel filtro che la pianeta sempre avuto ci ha permesso di respirare oggi invece cosa si racconta la narrazione è che il mondo della sostenibilità un'opportunità per fare soldi guarda caso quando in realtà se voi pensate quando sporcate casa si prende la spazzatura in genere non si guadagna si pulisce bisogna spendere delle risorse per pulire quindi per pulire ciò che noi abbiamo creato che è inquinamento attraverso co2 per toglierlo dobbiamo usare delle risorse non si può pensare di guadagnare anche nel pulire però chiaramente la narrazione più comoda per dire continuiamo a guadagnare e qui un po' direi in con valori cristiani no è fondamentalmente è il meno ai valori e si crea semplicemente si prega semplicemente il dio denaro due dopodiché secondo me perché questo è importante perché con i cambiamenti climatici noi ad oggi abbiamo questo obiettivo di arrivare a non più di due gradi ma adesso stiamo andando tra il traiettoria di più quattro gradi ci saranno tali calamità e catastrofi naturali che l'economia perderà più del 10 per cento del proprio valore fate conto che l'economia globale all'anno vale 10 cento trilioni quindi vuol dire che si perderà più di 10 trilioni ogni anno mentre piantare gli alberi costa molto molto meno quindi è anche una scelta economica e razionale una volta che uno capisce il numero e quindi secondo me costo molto importante quindi noi ad esempio con la leadership di Mark Carney che è il governatore della banca centrale inglese è stato governatore della banca canadese ed è l'inviato del united nation delle nazioni unite per tramattaccio quindi abbiamo firmato non solo i protocolli del united nation più volte ma facciamo perché qui un sacco di gente parla fa tante slides fa tante zoom call ecco scusate tanto per essere chiaro zoom call consuma un botto di energia perché sia chiaro ai giovani voglio spiegare che l'esplosione delle missioni dal 1990 ad oggi è arrivata fondamentalmente per l'esplosione utilizzo di energia l'energia perché esplosa perché una volta ai nostri tempi non c'era questo chiaro come un canale televisivo la gente si leggeva un libro e guardava la televisione oggi tutti a stare su instagram e a fare video call l'utilizzo di energia di queste piattaforme è immenso e quindi la co2 viene emessa per metà da produzione di energia che viene usato da apparecchi digitali quindi non pensate di non guidare un'auto ma essere su facebook o email o whatsapp che non si consuma energia questo non avete capito niente quindi io penso che ciò sia importante innanzitutto infatti il professor mancuso leggo studio numeri suoi e di altri è capire i numeri e capire il tema ora in tutto ciò quello che non va dimenticato e ricordiamoci negli ultimi 30 anni noi su 7 miliardi di abitanti ne avevamo tre che non avevano nemmeno un dollaro al giorno quindi devo dire noi siamo in africa in tanzania quando è un dollaro al giorno riesce a mangiare ok da noi lo stipendio medio e 20 25 dollari al mese vuol dire non avere un pavimento non avere luce non avere acqua vuol dire sopravvivere però sopravvivi sotto il dollaro al giorno non riesci a sopravvivere ecco negli ultimi 30 anni lo sviluppo economico ha portato due miliardi di persone dalla soglia totale di povertà da un da un dollaro a 4 5 e cambia la vita noi che siamo giù in tanzania vediamo tra chi vive a un dollaro al giorno e 5 al giorno cambia la vita e quindi il progresso è stato positivo perché due miliardi di persone come una di fame oggi sopravvivono il vero tema è che il modello economico che poteva già come dire andare verso una transizione rinnovabile non è stato fatto perché perché chiaramente guarda caso tutti quelli che hanno investito in petrolio e in gas continuano a dire che chiaramente non esiste un problema di climate change chi sono i più grandi produttori di petrolio russia arabia saudita in parte come dire paesi del nord africa venezuela e poi stati uniti di questi cinque quattro sono dittature e quindi guarda caso no avevano tutto l'interesse a dire che invece l'utilizzo del petrolio e di fossil fuel era nell'interesse e un sacco di scienziati sono stati comprati l'evidenza è talmente forte oggi che anche quelli comprati ormai come dire sono una minoranza ma soprattutto è chiaro oggi a chi ha il capitale e quindi quello che è importante che chi ha il capitale smetta di finanziare questi in maniera attiva ed è una scelta anche economica perché se non lo si fa tra 20 30 anni il conto sarà infinito anche dal punto di vista economico lo sarà anche dal punto di vista umano perché a quel punto sarebbe la mia aspettativa che saranno inevitabili guerre tanto per essere pragmatico nel 2000 lavoro fatto la fondazione clinton a questi tassi di riscaldamento globale tra il 2040 2050 l'area più popolosa sulla terra è l'area tra cina e india e south east asia con riscaldamento globale finiranno verranno modificati i monsoni vuol dire che ci sono zone dell'india con tre quattrocento milioni abitanti che non avranno l'acqua per irrigare i campi quindi cosa dire che la cina probabilmente inizierà a costruire dighe sulle malai a cosa che stanno facendo blocca a questo punto la possibilità di irrigare i campi e tu hai due potenze nucleari dove avrai tra i tre quattro cinquecento milioni che muoio di fame e quindi se uno dovesse dirmi quando scatterà la terza guerra mondiale sarà tra 2040 2050 tra in via cina se non si fa qualcosa prima perché quando 4 500 milioni di persone muoiono nella storia è sempre successa una guerra questo perché lo dico soprattutto ai giovani sia chiaro la nostra la prima generazione la mia che non ha mai visto la guerra in europa nella storia dell'umanità quindi il considerare che la guerra non torni è un errore storico enorme fondamentale per cui bisogna fare di tutto per impegnarsi in maniera attiva che questo non succeda e il concetto della sostenibilità è chiaro perché nessuno vuole andare in guerra se è sostenibile portato a mangiare le proprie persone e non è costretto a farlo grazie mille davide serra e anche davide pignata per la domanda e è molto interessante il suo intervento perché spesso anche quando semplicemente si ascolta la televisione si nota che proprio il parlare di numeri parlare di dati mette in difficoltà e da qui derivano anche diverse distorsioni in merito soprattutto a problemi come questi e dei cambiamenti climatici quindi grazie mille per questo punto di vista e collegandoci sempre all'esperienza di Algebris io ora vorrei introdurre Anna Barassi che insieme a Davide Serra ha fondato l'organizzazione benefica Cunamatata e so che è qui connessa con noi insieme al figlio Tommaso e questa sera appunto saranno loro che condivideranno la buona prassi cioè con la fase finale dei nostri incontri di pianta una pianta in cui appunto portiamo un'esperienza concreta di come ci si può sporcare le mani in questo momento storico quindi lascio la parola ad Anna e condivido qualche foto della loro esperienza Buonasera a tutti grazie Marta per l'introduzione e vorrei iniziare a introdurre questo nostro progetto di alcuna matata di cui adesso state vedendo alcune foto relative a due stati fa in cui siamo andati con tutti i ragazzi a aiutare la comunità con questa famosa frase di Baden Powell che mi hanno insegnato quando ero una ragazza scout lascia il mondo migliore di come l'hai trovato ed io come ex scout e ex capo scout e ora come madre di quattro figli sento questo invito più che mai necessario ed urgente certo che diventare genitori ci ha anche aiutato a fare quel salto dalla ricerca di soddisfazione immediata individuale a invece quella ricerca di soddisfazione intergenerazionale quindi da soddisfare le esigenze dei propri figli della propria prole e quindi orientata al futuro e questo salto intergenerazionale ha fatto capire a me e a Davide e alla nostra famiglia quanto facciamo tutti parte di questo sistema allargato parte integrante assolutamente integrante di questo sistema allargato mondo natura uomo genitore figlio in cui il deteriorarsi o il beneficio di uno di questi elementi porta inevitabilmente al deteriorarsi al beneficio degli altri elementi del sistema e forse anche per per questo che dieci anni fa io e Davide abbiamo deciso di dare un nostro piccolo contributo a questo sistema creando questa associazione Akuna Matata che è una charity con la missione di aiutare fondamentalmente i bambini bambini in vari ambiti ma soprattutto bambini orfani ci sono tanti bambini orfani di AIDS purtroppo nella in una regione della Tanzania centrale e perché i bambini i bambini rappresentano e questo l'abbiamo chiaramente sentito sulla nostra pelle rappresentano nel presente l'embrione del futuro e così il mio bambino non più molto bambino adesso Tommaso vi racconterà i vari progetti che con il tempo abbiamo sviluppato e costruito e a cui lui stesso ha dato un suo contributo allora Akuna Matata gestisce diverse attività in Tanzania per esempio due orfanotrofi che impiegano personale locale e ospitano circa 200 bambini ciascuno. Questi orfanotrofi sono gestiti in modo innovativo attraverso delle case famiglie. A capo di ogni casa c'è una madre della comunità locale che riceve formazione e uno stipendio mensile. Ogni casa famiglia ospita circa 6 o 9 orfani consentendo così ai bambini di crescere in un ambiente familiare e poter essere facilmente rinseriti nella loro comunità di appartenenza. Nell'educazione la costruzione e gestione di 70 scuole materne in tutta la regione. Akuna Matata aiuta i bambini più poveri e giovani adulti della comunità a frequentare la scuola primaria e secondaria finanziando le rette scolastiche e fornendo uniformi, scarpe, libri e libri di testo. Inuca Rehabilitation Center. Akuna Matata sostiene il centro di riabilitazione Inuca, con finanziamenti e consulenza tecnica. Inuca è il primo centro di riabilitazione per disabili della regione, situato nel piccolo villaggio di Wangingombe. Il Pamoja Project. Il progetto Pamoja è un'iniziativa comunitaria, volta a coinvolgere la popolazione locale, nell'agricoltura sostenibile di coltura di girasole. Inuca Farm produce olio di girasole, che viene poi venduto al mercato. I ricavi di queste vendite supportano il centro di riabilitazione Inuca, con l'obiettivo che quest'ultimo divenga autosufficiente nel futuro. Infine, il Mamere Agricultural College. Il Mamere Agricultural College Livestock è l'unica scuola dedicata all'agricoltura della zona, che fornisce ogni anno a oltre 100 studenti gli strumenti per aiutare la loro comunità in futuro. Akuna Matata aiuta a fornire risorse di apprendimento, come libri e attrezzature veterinarie, nonché a costruire alloggi e aule per studenti. Per altre informazioni potete visitare www.akunamatata-charty.org o il nostro sito Instagram akuna.matata.charty. Grazie mille, Anna e Tommaso, per aver arricchito questa serata. In particolare adesso mi è venuto in mente per concludere un passo della Laudato Si, in particolare il punto 160 in cui il Papa parlando delle future generazioni dice che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo. Questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato perché non si può porre la questione in maniera parziale. Pertanto non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c'è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l'umanità che verrà dopo di noi. Quindi io concludo questa serata ringraziando tutti i giovani e tutti gli esperti che ci hanno accompagnato. Ringrazio anche e soprattutto ricordo le realtà che stanno dando forma a questo percorso, a questo processo. In particolare ringrazio la Pastorale Giovanile di Milano, i gruppi FUCI di Milano, la Chiesa del Carmine, Blue Giant Film, il Servizio per la Pastorale Sociale del Lavoro, la Comunità Paciamama e la Fondazione Culturale Ambrosianeum. Michelle, quando è il prossimo appuntamento? Allora vi invito tutti a seguirci al prossimo appuntamento il prossimo anno, il 28 gennaio. Quindi anch'io vi ringrazio tutti, è stata una bella serata, molto interessante. Buone feste a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti.